Siete stati definiti politicamente responsabili dal primo cittadino che poi si è scusato con i fanesi. Agnese, perché siete usciti dal Consiglio Comunale al momento della votazione? Siamo usciti dal Consiglio Comunale proprio perché invece al contrario abbiamo a cuore la nostra città. Abbiamo ritenuto che votare una delibera da 3 milioni di euro senza aver avuto la necessaria condivisione in maggioranza e senza aver valutato in maniera oculata, oltretutto in assenza anche dell'assessore competente che in quel momento aveva annunciato le sue dimissioni e in assenza del nuovo assessore ai lavori pubblici ci sembrava una scelta davvero precipitosa e non corretta nei confronti della città che merita scelte oculate anche di maggiore visione perché con quei 3 milioni avremmo potuto valutare bene appunto scelte più importanti come il Waterfront, il Lungomare Sassonia, ovviamente l'Interquartine di Gimarra, la questione del teatro romano che è praticamente sparita dai notiziari e tutto quello che appunto riguarda le scelte strategiche della città. Quindi non c'è stato un confronto neanche nelle riunioni cosiddette preparatorie, tra l'altro l'assessore Cuccherini è proprio del PD. Con l'assessore Cuccherini ovviamente ci eravamo confrontati ma anche in maggioranza però senza, ad esempio nessuno ci aveva detto che c'era l'urgenza per alcuni provvedimenti e che c'erano delle scadenze. Ovviamente si tratta di un ritardo di soli 15 giorni di fronte ai ritardi enormi, alle lentezze, alle inefficienze di questo settore appunto della nostra città, dei lavori pubblici. È chiaro che ci sentiamo un po' presi come capro espiatorio perché non siamo noi con i nostri 15 giorni di ritardo ad aver compromesso l'esito dei lavori in questa città. Pensiamo ai ritardi sul PRG, ad esempio pensiamo ai ritardi su tutte le opere strategiche della città. Tra l'altro mi pare giusto dire che noi proprio nello stesso Consiglio Comunale io avevo appunto sottoscritto insieme alla consigliera Luzzi una mozione sulla strada della scuola di Cucurano, l'abbiamo approvata e tutte le liste del sindaco ad esempio l'hanno votato contro. Per cui lì c'era necessità di una scelta urgente per quel quartiere e per quella scuola e quella scelta ovviamente non è stata fatta dalla nostra amministrazione ma soltanto dalla nostra iniziativa con l'aiuto ovviamente delle opposizioni in quel caso. A questo punto che cosa si sente di dire lei al sindaco? Ci auguriamo che questo attacco non sia dovuto al fatto che noi tre consiglieri appunto in passato abbiamo combattuto per l'autonomia di Aset, abbiamo lottato in Consiglio Comunale contro il progetto di fusione con Marche Multiservizi e ci auguriamo davvero che il sindaco possa davvero da qui in avanti essere un buon padre di famiglia e comportarsi in maniera equa con tutti i suoi figli in maggioranza.